Questo che sto per presentare è un corso di statistica, statistica di base. Mi chiamo Marco Maioli, sono insegnante di matematica applicata, statistica all'Università di Modena nel Dipartimento di Fisica, Informatica e Matematica dell'Università di Modena. Mi è stato chiesto di preparare delle lezioni videoresistrate che saranno per la prima parte di probabilità e per la seconda parte di statistica parametrica. Nella prima parte presenterò dopo il calcolo combinatorio l'idea, il concetto di spazio di probabilità per sommi capi con le formule di probabilità condizionata, il teorema di Bayes, formula di probabilità totale e soprattutto mi soffermerò sulle variabili aleatorie discrete e assolutamente continue, sui parametri di una variabile aleatoria, media e varianza specialmente, studiando in modo particolare la variabile aleatoria binomiale di Poisson e la variabile aleatoria normale. arrivando fino a dare il concetto di covarianza, dopodiché ci addentriamo nella statistica parametrica, le distribuzioni collegate alla normale, chi quadro, T di student, F di Fischer e i principali test, ecco diciamo, che si possono eseguire. Dopo aver visto gli intervalli di fiducia, il test su una media, test su due medie raccolte da due campioni indipendenti, test su una proporzione, test su più proporzioni, mediante chi quadrato e le ultime lezioni dedicate alla regressione lineare semplice. Si può fare quasi tutto usando semplicemente delle tavole che unisco per iscritto agli allegati, le tavole della normale, della chi quadro, T di student, F di Fischer. Alcune cose si possono fare soltanto con un software statistico. Io suggerisco il software R senza volere dare un'introduzione R, per me sarebbe impossibile, tanto più in questa sede. Però alcuni cenni su quelle poche funzioni che servono a ampliare, a vedere come eseguire un test e come in particolare eseguire test intervalli di fiducia grafici importanti per una regressione lineare semplice. Prerequisiti i fondamenti della matematica che di solito viene studiata nelle scuole superiori. Sarebbe bene anche avere qualche nozione di derivata e integrali, ma non è così strettamente necessario. Infine ci si attende che uno sappia raccogliere dati, metterli in un grafico, in un diagramma di dispersione e soprattutto eseguire intervalli di fiducia di una media, di una proporzione e i test che ho appena detto su questi dati, su questi campioni di dati raccolti. E infine anche di saper discutere i risultati di una regressione lineare semplice. Spesso i software statistici ci danno una marea di risultati, ecco, saperne discutere i più importanti. Buon lavoro.